Continua senza tregua la battaglia per scongiurare la chiusura del punto nascita dell'ospedale San Liberatore di Atri. Questa volta ad intervenire è il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio che dichiara di volersi impegnare personalmente, contrastando con determinazione il totale disinteresse della maggioranza verso il problema. Non si può andare avanti dal ministro De Monti con i tagli orizzontali per un fatto prettamente numerico, che devono avere almeno 1.500 nascite l'anno, il punto nascita di Atri è al limite, è proprio borderline, mi sembra tra le quadrate stimate 485. Va presa in considerazione la morfologia del territorio, la difficoltà di raggiungere poi un altro presidio sparadiero. Torniamo a ripetere, la stessa cosa vale per la rianimazione neonatale, per esempio noi in provincia di Teramo, sia Teramo che i vari presidi, non abbiamo una rianimazione neonatale come per esempio hanno l'Aquila, Chiedi e Pescara. Insomma quindi già una donna che deve partorire potrebbe avere già difficoltà per raggiungere magari Teramo e poi non avere nemmeno una rianimazione neonatale, quindi noi chiediamo con forza, lo abbiamo fatto il Consiglio regionale, continueremo a farlo, proprio perché prima va ridisegnata la mappa del territorio e poi eventualmente andate a valutare quelle che sono le necessità dell'interno del territorio regionale. Non si può agire, non si può assolutamente agire tagliando direttamente per un fatto prettamente numerico, questo non è possibile, è come dire avere un'ambulanza ogni 300.000 abitanti, ma come è possibile non pensare a un'ambulanza sul territorio montano piuttosto che sul territorio della Marina? Quindi è chiaro che non si può guardare a numeri, a numeri si può guardare in una grande città, abbiamo anche grandi problemi di viabilità e questo va tenuto assolutamente in considerazione, quindi è questo che chiediamo fortemente all'assessore Palucci e al presidente D'Alfonso, non solo per Atri ma per tutte quelle che sono nelle stesse condizioni dell'ospedale di Atri.